A Vieste, nella seconda metà di agosto, i carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio allo scopo di prevenire la consumazione dei reati e incrementare la cornice di sicurezza in un periodo particolarmente sensibile per l'elevata presenza di turisti. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno controllato complessivamente 1.500 persone, 1.000 veicoli e 50 attività commerciali. L'intensificazione dei servizi ha permesso anche di rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno del traffico di droga. 5 le persone, accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di droga, arrestate in flagranza di reato. Oltre 50 assuntori, segnalati alla Prefettura, sequestrati circa 420 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, oltre 10.000 euro in contanti, sono stati arrestati. Due quarantenni di luoghi in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e un 45enne per evasione. I militari dell'arma hanno rilevato criticità in materia di lavoro sommerso, sicurezza sui luoghi di lavoro, tracciabilità e sicurezza alimentare, elevando sanzioni amministrative per circa 11.400 euro, sequestrando circa 50 chili di prodotti alimentari.